Il momento zero. No, due a zero veramente, due a zero. Qua siamo in barca con l'amico Giacomo, bellissima giornata, mare stupendo, mare stupendo e siamo qui. Come si dice? Siamo in cerca di nuove prede e speriamo che la fortuna ci aiuta perché la pesca ha anche un po' di fortuna. Eh sì, senza ovvero di culo. E qua siamo sul mare bellissimo della nostra bella Calabria. Giovino e il porto di Catanzaro lì. Ok, a dopo. Speriamo di prendere qualcosa. Ciao a tutti. Ciao.